Nel video di oggi vi farò vedere come creare un make up per carnevale. In pochi e semplici passaggi creerete sul vostro viso un effetto da bambola. Per questo trucco vi serviranno un fondotinta chiaro e un blush rosato, due ombretti satinati, uno rosa e uno marrone, una matita tortora per le rime esterne e una bianca per la rima interna, ciglia finte bicolor e colla per ciglia finte, un rossetto fucsia e una matita labbra dello stesso colore e un gel colorato per le sopracciglia. Dopo aver steso la crema idratante applico se necessario un correttore per correggere occhiaie e imperfezioni. Stendo poi su tutto il viso un fondotinta molto chiaro per creare un incarnato uniforme e ad effetto porcellana. Sulla palpebra mobile applico un ombretto rosa satinato, mentre nella piega dell'occhio sfumo un ombretto marrone. Con una matita tortora delineo la rima ciliare superiore e sfumo il tratto con un pennello sfumino. Con la stessa matita delineo anche la rima ciliare inferiore esterna sfumando sempre il tratto. Nella rima ciliare interna applico invece una matita bianca per far sembrare l'occhio più grande. Al centro delle guance applico un blush rosato con dei movimenti circolari. Tampono sulle labbra un correttore per annullarne il colore. Delineo poi un nuovo contorno labbra con una matita fucsia creando una forma a cuore arrotondata sulla parte superiore e inferiore. Infine applico un rossetto dello stesso colore. Applico le ciglia finte. Ho scelto un bicolor bianco e nero per ricreare l'effetto delle bambole di porcellana. Delineo le sopracciglia con un gel scuro andando a riempire i piccoli buchi e creando un'arcata definita. Ultimo step, creo delle lenticini con una matita scura non troppo morbida. E questo è il risultato finale. Al prossimo video!